Ciao a tutti, io sono Lilixiana, bentornati sul mio canale con un nuovo video riguardante Pandora. Oggi vi farò vedere dei piccoli acquisti che ho effettuato su una gioielleria, alcuni fuori produzione, e monteremo insieme un nuovo progetto di mio nuovo bracciale. Eccolo, questo è il mio nuovo progetto, nuovo non molto perché ci lavoro da diversi mesi, perché come potete vedere sono tutti fuori produzione, perché amanti come me di Pandora quindi sa di cosa parlo. Scusate innanzitutto la voce perché sono veramente molto influenzata tra tosse e tutto, spero di riuscire a fare un video decente. E niente, come vi dicevo sto cercando di fare un bracciale sulle tonalità del verde, anche se questo ha delle pietre verdi e celesti, quindi danno un po' la tonalità del verde acqua. Come vi avevo fatto vedere in un video precedente, vi avevo fatto vedere appunto le mini murrine che avevo preso proprio per questo bracciale. Infatti appena l'ho visto ho detto sì, ok non sono proprio verdi, però diciamo che ho cambiato un po' indirizzo di progetto. Vi volevo fare vedere appunto, sempre inerente a questo bracciale, un acquisto che ho fatto in una gioielleria di Milano che si chiama appunto Magnani e Splendore. Purtroppo questa gioielleria non ha uno store online, però potete acquistare i loro prodotti perché spesso vendono in vari gruppi di Facebook. Sinceramente io preferisco sempre acquistare da gioiellerie perché mi fido di più, cioè difficilmente riesco a comprare oggetti usati perché ho proprio paura della loro non certificazione, ho paura che siano troppo rovinati, però devo dire che in questa gioielleria mi sono trovata veramente bene, quindi ve la consiglio, magari ve la lascio sotto. Ho preso questi due gioielli verdi che li bramavo non so da quanto tempo, purtroppo non si trovano più negli store Pandora perché sono fuori produzione ovviamente, ecco ho distrutto tutto, vabbè li lascio qui così mi viene più facile farveli vedere, sono bellissimi, eccoli qua, ve li faccio vedere più da vicino nel dettaglio, sono dei, mi sembra che si chiamino gioielli verdi, punto e basta, e niente, li ho acquistati appunto nella gioielleria Magnani e Splendori, devo dire che sono stati molto gentili perché ho chiesto appunto se avessero dei gioielli verdi e loro molto gentilmente mi hanno mandato le foto di tutti i loro gioielli verdi, e niente, devo dire che sono stati gentilissimi, io li cercavo da tanto, anche perché nello store online di Pandora sì ci sono, però in effetti ogni volta che andavo a comprarli erano sempre non disponibili, quindi ormai mi ero arresa a questa cosa, invece sono stata felice perché li ho trovati, ma da Magnani e Splendori ho trovato un'altra cosa che cercavo da un po' di tempo, e ve la voglio far vedere, è poco attinente con questo progetto, però ci tengo troppo a farvelo vedere perché l'ho comprato in questa gioielleria, e quindi ve lo voglio fare vedere. Diciamo che è qualcosa relativa al Natale, che è quasi alle porte, e siccome io non ho mai voluto un bracciale di Natale, ho sempre detto ma stiamo scherzando, cosa me ne faccio di un bracciale di Natale, cioè lo posso indossare solo a Natale, ma stiamo scherzando? Ecco, ci sono cascata anch'io, così ho preso un charme a Natalizio che l'anno scorso lo guardavo e dicevo, oggi è carino, però sinceramente anche no. Niente ragazze, quest'anno ci sono cascata anch'io, vi faccio vedere subito cos'è. Et voilà! Ecco, è il trenino di Natale, ma mi sa che lo devo togliere da qui perché purtroppo dalla telecamera non rende, potrò tirarlo con la cordina. E questo è il trenino di Natale, no? Guardate che meraviglia, è troppo grazioso. E niente, anch'io quest'anno avrò il mio bracciale di Natale. Niente, ci tenevo a farvelo vedere. Anche questo purtroppo è un fuori produzione, non so se riuscite a trovarlo, però se vi interessa, magari l'ho visto in qualche gioielleria online, vi posso dire, magari in privato vi posso anche dire dove trovarlo. Niente, volevo farvelo vedere. Ritornando al nostro progetto, vediamo un po' come possiamo montare questo bracciale, anche se ci vorranno ancora molti mesi per finirlo, perché mi sa che resta ancora bello vuoto. Aspettate, scusate, lo stavo smontando al contrario. Ho già un'idea ben definita di come montarlo. Scusate se non so i nomi dei charmi, di solito me li segno, ma stavolta non me li sono proprio segnati. Scoperto l'arcano. Andiamo a montarlo insieme. Sono un po' emozionata perché non l'ho mai montato. Prima il gioiello verde. Ho già bene in mente super giù come montarlo. Ecco, andiamo a mettere, scusate, ma ho proprio un mal di gola. Andiamo a mettere la costellazione verde, come avrete notato. Mi piacciono leggermente perché ce li ho di tutti i colori praticamente. Andiamo a mettere la mini murrina. Vedete com'è piccola? Questa la trovate sempre ad Arese, perché in altri negozi non sono riuscita a trovarle. Uh, scusate. Andiamo a montarla. Questa gira sulle filettature, quindi bisogna avvitarla. Andiamo a mettere appunto la sfera. Vabbè, sono tutti passaggi che voi conoscete. Non sto facendo niente di eccezionale. Andiamo a mettere questo, che non ho più palida idea di come si chiami. Anche perché è uno dei primi ciarmi che ho comprato. Diciamo che è abbastanza provvisorio, perché non so proprio cosa inserire in mezzo. Se avete qualche consiglio, qualche suggerimento, soprattutto voi amanti del mondo Pandora, voi tutte che fate video, se potete aiutarmi su questa cosa, perché proprio non riesco a trovare qualcosa, un gioiello prezioso, insomma, da mettere in centro. Ecco, montiamo la murrina. Questa sempre avvitandola, perché è dura montare il Pandora, ragazze. Cioè, non pensate che sia un giochetto da ragazzi, eh? E poi appunto, per ultimo, il gioiello verde. Andiamo a chiudere il bracciale, perché altrimenti scappo le ciali. Niente, il prossimo acquisto sarà la catenina, perché altrimenti il ciarmi mi vola via. Questo è, diciamo, metà del mio progetto verde. Sono ancora alla ricerca di svariati ciarmi da inserire in questo bracciale. Ah, non vi ho detto che il bracciale è... Oddio, come si chiama questo bracciale? Aspetta. Questo è sfera in pavè, a cuore, qualcosa del genere. Che è anche questo fuori produzione, quindi se lo cercate... Oddio, forse lo trovate su una viglia e fiume. Sembra sì, questo lo trovate anche scontato su una viglia e fiume, perché appunto è un fuori produzione. E comunque ve lo consiglio, perché è una delle chiusure più belle e resistenti. Niente, se anche voi sapete di qualche gioielleria dove vendono qualche altro ciarmo verde, perché sono alla costante ricerca di finire questo bracciale, perché il verde è il mio colore preferito. Non so se si nota, a parte le unghie arancioni, ragazzi, ma vi giuro che non le ho fatte per Halloween, ma solo perché l'arancione, quest'autunno è di tendenza, sappiatelo. Non ho un bracciale arancione da farvi vedere, però male. E niente, questo era il mio piccolo gioiello. Oggi sono molto più incisiva, veloce. Vi aspetto nel prossimo video. Non ve ne andate, rimanete lì, eh! Ciao, alla prossima! Ciao!